guinza ci siamo avviato il cantiere dopo 30 anni di attesa riceci continua la battaglia giovedì paolini riferisce in parlamento sindaco di urbino parte la corsa di federico scaramucci pesaro in festa per il 67esimo carnevale dei ragazzi vuole in caduta libera ottava sconfitta di fila buona serata ben ritrovati al nostro telegiornale oggi è lunedì 12 febbraio e apriamo questa edizione con un servizio che arriva dal confine della nostra regione marche quello di mercatello sul metauro dove dopo 30 anni di attesa oggi è stato ufficialmente consegnato il cantiere alla galleria della guinza previsti tre anni di lavori per rendere nuovamente transitabile questo strategico collegamento fra marche umbria e toscana e allora partiamo con questo nostro primo servizio dopo tre decenni di attesa sulla galleria della guinza si apre quella breccia operativa volta ad unire la fano grosseto interrotte in un perdurante immobilismo questa mattina infatti a mercatello sul metauro i tre presidenti di regione marche umbra e toscana si sono ritrovati all'intersezione dei loro confini per consegnare il cantiere di anas che consentirà di tornare a percorrere la suddetta galleria il gidei galleria dei oggi è la dimostrazione della concretezza del pragmatismo con cui le tre regioni toscana marche e umbria hanno voluto dare avvio finalmente ai lavori per completare un'incompiuta quella che collega non solo fano con grosseto ma le nostre due capitali del risnascimento urbino con firenze ma soprattutto i porti di ancona con quello di livorno questo significa che puntiamo molto allo sviluppo economico allo sviluppo economico non solo della nostra regione ma del sistema centro italia del sistema italia anas ha appaltato il cantiere al consorzio stabile europeo che da inizio ad un lavoro da 150 milioni di euro con finanziamento supportato dal governo meloni 925 giorni di lavoro per rendere attivo il transito in galleria presumibilmente nel 2027 almeno un transito relegato alla sua prima monodirezione marche umbra fra mercatelle san giustino dopodiché si lavorerà per pensare a finanziamenti che completino la funzionalità dell'opera andiamo per gradi innanzitutto continuiamo a lavorare e a completare quest'opera che era nevralgica l'opera era il pezzo e rappresentava il pezzo dell'ostacolo più grande perché in pochi chilometri occorrevano veramente tanti milioni di euro poi sicuramente si proseguirà per il completamento della fano grossetto che come le dicevo è un'arteria fondamentale per il centro italia per l'appennino per il mare adriatico e per il mare terreno e soprattutto un'arteria che congiunge tante realtà e apre mondi diversi e li mette in stretta connessione i collegamenti fra il tirreno e l'adriatico i collegamenti fra est e ovest non sono pari a quello che invece sono le infrastrutture che vanno da nord a sud e questo penalizza proprio le regioni del centro che sono regioni vidali che sono regioni meno assistite di altre ma che invece hanno un sistema economico e sociale fra toscana umbria marche molto omogeneo e che quindi deve essere collegato il messaggio di questa apertura della guinza è il messaggio di un'italia che dal tirreno all'adriatico vuol vedere collegamenti e infrastrutture all'altezza della modernità con i colleghi stiamo portando avanti un percorso sicuramente importante le infrastrutture significano collegamenti più veloci significa sviluppo economico significa insomma tante cose questa è una trasversale che metterà in collegamento tirreno adriatico e quindi sicuramente per la nostra regione un altro tassello importante in questa direzione. Oggi facciamo saltare uno dei tappi con cui negli ultimi 30 anni il partito democratico ha tenuto chiuso ermeticamente la nostra regione Marche così come è stato anche certificato dalla Unione Europea che ha purtroppo indicato la nostra regione nel 2019 come regione in transizione sia come regione fra le meno sviluppate d'Italia. Il lavoro è iniziato per sollevare le Marche da questo gap infrastrutturale a cui eravamo stati condannati abbiamo intrapreso questa strada che vogliamo portare avanti. Da una grande opera che esce dall'immobilismo passiamo ad un'altra grande opera che invece si vuole a tutti i costi scongiurare stiamo parlando del progetto della discarica di riceci che continua ad essere monitorato in Parlamento dalla commissione eco-mafie. Giovedì ad essere ascoltato a Roma sarà il presidente della provincia Giuseppe Paolini. Continua a far rumore il caso della discarica di riceci. Da qualche settimana ormai è infatti finito sotto l'occhio attento della commissione d'inchiesta parlamentare per le eco-mafie e che proprio nei prossimi giorni ha convocato una nuova audizione sul tema. Giovedì prossimo il 15 sarà il viato a nuova audizione con il presidente Paolini della provincia. Noi abbiamo insistito e ottenuto questa audizione perché la questione oltre ad avere un profilo ambientale discutibile ricordo che a Riceci è al centro distretto biologico più grande d'Italia. Siamo all'interno della DOP Casciotta d'Urbino, una DOP Casciotta importantissima. Siamo in un territorio dove la regione Marche ha girato lo spot di Dustin Hoffman per promuovere il territorio. In un territorio così importante, così bello, straordinario, baseagisticamente parlando, non si può costruire una discarica. Ma anche il metodo di come questo progetto è venuto fuori non ci convince perché non si può trovare per strada un imprenditore affidagli un progetto così importante quando lo stesso progetto potrebbe essere fatto da Marche Multiservizi in house senza ricorrere ad altre strutture. Allora vogliamo vederci chiaro chi c'è dietro questa discarica, chi c'è dietro questo progetto e i soldi dei cittadini a chi vanno. Perché voglio ricordare che il 52% della società appartiene alla provincia di Pesaro-Urbino, ma non all'ente provincia, alla comunità provinciale, cioè a Urbino, Pesaro, tutti i comuni che ne fanno parte. Quindi quelli sono soldi pubblici che vanno gestiti attraverso un percorso di trasparenza, attraverso un percorso di selezione pubblica, attraverso una gestione oculata innanzitutto della scelta dei partner, che a noi non ci sembra che una NUCO appena costituita possa avere le qualità tecniche, economiche e di struttura per poter portare avanti un progetto del genere. E quindi chiediamo chiarezza su questo tema. Ed ora la politica. Mancano meno di quattro mesi alle elezioni amministrative di giugno e ad Urbino. Il nuovo nome è quello di Federico Scaramucci, che ha presentato la sua candidatura a sindaco, in rappresentanza di una coalizione di centro-sinistra, che punta a riconquistare la città dei Torricini. Davanti a più di 300 persone, traurbinati politici della provincia e della regione Marche, Federico Scaramucci ha presentato la sua candidatura a sindaco di Urbino, sostenuto da una coalizione che vede tutto il centro-sinistra unito per la città che verrà. La nostra è una coalizione progressista e civica di centro-sinistra, che ha deciso, nelle forze politiche che la compongono, di lasciare da parte gli interessi di parte e invece pensare all'interesse di Urbino. Un progetto per la città che sia di medio-lungo periodo. Noi non ci interessa il terzo mandato per cinque anni, ci interessa costruire una prospettiva per i prossimi dieci o vent'anni, per quando poi addirittura, magari un domani non ci saremo neanche noi a governare, però abbia creato le condizioni di sviluppo per questa città. Questo credo che sia la caratteristica principale, cioè un progetto a medio-lungo termine. Lavoreremo sul rapporto anche con la città, faremo un tour nei prossimi giorni dove toccheremo tutte le frazioni, tutti i luoghi di lavoro, i luoghi della socialità, le associazioni, le imprese, i lavoratori, i cittadini. Andremo a parlare con tutti perché vogliamo raccontare il nostro progetto e vogliamo anche sentire quelle che sono le idee delle persone per poter completare il nostro programma. Sanità, i servizi del territorio, noi dobbiamo tutelare il nostro ospedale, dobbiamo chiedere che venga difeso, dobbiamo chiedere che venga appunto che le eccellenze che ha, i servizi che ci sono non vengano smantellati. In questi anni diciamoci la verità, non c'è una percezione di una sanità migliore per l'entroterra e soprattutto ad Urbino. La formazione Urbino deve dialogare la città con l'università in maniera costante tutti i giorni per pianificare insieme delle prospettive di sviluppo, per creare opportunità di lavoro, occupazione, per far sì che sia arrestato anche il declino con questo calo degli abitanti, il calo delle imprese. Questo è preoccupante, noi dobbiamo assolutamente impegnarci per impedire questo. E ovviamente il turismo, un settore che conosco benissimo, avendoci lavorato per tanti anni, lavorandoci ancora tuttora, ci sono delle grandissime opportunità, dei treni che non possiamo perdere. Aver perso quello della Capitale Italiana della Cultura insieme a Pesaro è stato davvero un dramma perché qualcuno ha scelto di non partecipare, invece noi dobbiamo concorrere a tutte le competizioni, dare la possibilità alla città di avere delle opportunità. Quindi abbiamo tantissime idee, le vogliamo condividere con le persone, con le tante persone che ci sono anche qua stasera e anche siamo aperti, anche se qualcuno vuole partecipare in questo progetto noi saremo aperti a persone, associazioni, i movimenti a chiunque voglia dare una mano. Noi ci siamo motivati a partecipare a questa coalizione di centrosinistra quando abbiamo preso coscienza, piena coscienza della situazione di degrado e di declino che Urbino e il territorio sta attraversando. Ancora più grave se si pensa che Urbino ha una responsabilità sulle sue spalle che è quella di fornire, di costituire un punto di riferimento per i comuni dell'entroterra che hanno appunto in Urbino il luogo da cui attingere dei servizi essenziali alla vita del territorio. Anche gli studenti ma soprattutto i giovani urbinati scenderanno in campo per questa tornata elettorale. Nel corso di questi dieci anni il territorio ha subito uno spopolamento incredibile e quelle che sono le opportunità per le giovani generazioni come le mie sono venute meno in una qualche misura. La forza di questa coalizione sarà proprio quella di rimettere i giovani al centro, siano essi studenti o siano essi cittadini e garantire loro opportunità, opportunità occupazionali e l'opportunità fondamentale di rimanere nel territorio per fare la differenza nel territorio. Dalla corsa a sindaco a Urbino a quella di Pesaro dove è stata ufficializzata la candidatura dell'avvocato Pia Perricci in rappresentanza della lista civica Vieni Oltre. Lista presentatasi a novembre e che aveva già nella Perricci il ruolo di coordinatrice di uno schieramento che si annuncia a partitico e che non si coalizzerà con forze politiche di maggioranza o opposizione. Sanità e ambiente sono i punti cardine di una lista civica che nei prossimi giorni aprirà una sua sede elettorale in via Cialdini. Ed ora passiamo alla cronaca. Nella tarda serata di ieri un ladro è stato arrestato pochi metri e dopo un tentato furto nel locale Lulla Vistamare nella Bicipolitana di Pesaro nei pressi del camping Norina. Alle 23.14 è infatti scattato l'allarme dalla centrale operativa Vigilar che attraverso i fotogrammi di videosorveglianza ha notato un uomo che si introduceva nel locale e ha inviato subito una pattuglia sul posto allertando anche la polizia. Gli agenti hanno fermato il ladro a poche decine di metri di distanza dal locale in cui è stata trovata una finestra rotta e una sola bottiglia mancante. Nelle marche calano vertiginosamente i lavoratori con partita IVA. A fine 2023 sono risultati il 10% in meno rispetto all'Italia che invece cresce dell'1,2%. Questi i dati pubblicati oggi dalla C.G.I.A. di Mestre. Un calo ancora più netto per quel che riguarda le categorie di artigiani, commercianti e agricoltori nell'arco temporale 2014-2022. Categorie che nelle marche sono diminuite del 17%. Altri dati nazionali pubblicati oggi sono quelli relativi alle iscrizioni alle scuole superiori per l'anno scolastico 2024-2025. Nelle marche resta alto l'interesse degli studenti per i licei che contano il 54,2% delle iscrizioni. Un dato però in flessione rispetto allo scorso anno quando i licei avevano raccolto il gradimento del 56,7%. In crescita invece le iscrizioni agli istituti di indirizzo tecnico che passano dal 30% dell'anno scolastico scorso al 32% di quest'anno. Secondo varo in meno di un mese al cantiere Wilder di Fano che ieri ha messo in porto il suo primo modello Wilder 60, ovvero un nuovo brand di Wilder che trasferisce il design e la costruzione tipica dei super yacht su un modello interamente in alluminio lungo 19 metri. Si avvicina il 14 febbraio giorno di San Valentino che Pesaro capitale della cultura celebrerà con la promozione porta il tuo amore al museo. La promozione prevede che le coppie che mercoledì si recheranno nei musei cittadini acquistando una card Pesaro capitale ne riceveranno una seconda in omaggio. Ricordiamo che la card consente svariate agevolazioni per accesso a mostre e musei per tutto il 2024. Cala il sipario sul carnevale di Fano con la terza e ultima domenica di sfilati, anche questa volta sold out. Carnevale che nelle tre domeniche ha visto ben 200 quintali di dolciumi lanciati alle migliaia di partecipanti. L'ultima sfilata ha avuto come ospite il direttore d'orchestra Beatrice Venezzi che ha ammirato il carro a lei dedicato, realizzato dal maestro carrista Paolo Furlan. Ad aprire il corteo con la Venezzi è stato il sindaco di Fano Massimo Seri nell'occasione vestito da Voulon. E dopo il carnevale di Fano andiamo a vedere anche le colorate immagini di festa del 67esimo carnevale dei ragazzi andato in scena ieri per le vie del centro storico. Anche la più bella rosa diventa passita, va bene ti aspetto ma non tutta la vita, ti giri un momento, la notte è finita, le stelle già stanno cadendo. Potevamo noi mancare al carnevale dei ragazzi a Pesaro organizzato dall'Arcidiocesi con la collaborazione del comune di Pesaro Parcheggi? Assolutamente non potevamo mancare e infatti non manchiamo, ci siamo, siamo qua. Siamo qua per questa sfilata, la sfilata dei carri ma soprattutto delle installazioni, delle allegorie come le chiamano. Sono nuove le parrocchie che sono presenti quest'oggi, più altre allegorie che hanno chiesto di partecipare come hanno fatto anche altri anni perché oggi deve essere veramente un momento di festa, di allegria per i bambini e per le loro famiglie. Il carnevale viene pensato, creato già da ottobre, novembre e quindi tutte le parrocchie si mettono in movimento cercando di coinvolgere i ragazzi, le famiglie e c'è un grandissimo lavoro, prima per pensare ovviamente al tema e poi per lavorare perché sapete che la carta pesta come la gomma piuma, come qualunque altro vestito ha bisogno di manualità e quindi c'è una ricerca continua anche nelle parrocchie per tramandare chi sa fare la propria capacità e quindi questo fa sempre fare più gruppo e più comunità ed è il motivo per cui questo carnevale nasce dalla diocesi di Pesaro con la volontà di fare mantenere gruppo e comunità nelle parrocchie. Sono 67 volte che siamo qui ragazzi e speriamo che ci siano altre 67. Tutti insieme come sempre per la festa del carnevale, 67esima edizione, anche quest'anno 11 allegorie. Cos'è sta storia che sei andato a fare, nominato il sindaco di Fano, come il sindaco di Fano? Mi hanno chiamato, avevano bisogno di cultura, quest'anno Pesaro 20-24 città della cultura e Fano ha detto portiamo un po' di cultura anche a Fano, in più hanno detto il tema del carnevale di Fano era il disturbo, quale maggiore disturbo per Fano avere un sindaco pesarese e quindi sono stato là al giovedì grasso e mi hanno dato, ho sbagliato, la fascia di sindaco di Fano da giovedì a martedì grasso. L'articolo 15 bis dello statuto del comune dice che per quella settimana il sindaco ufficiale lascia perdere tutte le sue funzioni e uno del carnevale quest'anno è toccato a me. Rabba Ken. Vediamo domani che andiamo in consiglio comunale, ci saranno grandi sorprese perché la caniera che come potete sentire non dice mezza parola di dialetto perché la mia povera mamma diceva se uno il dialetto non lo sa non lo deve usare, allora io parlo in corretto italiano e dico Rabba Ken e forse anche il Volondo dovranno aver paura. La sfilata, l'arrivo in piazza, la premiazione sul palco che ha visto per il secondo anno la parrocchia di San Carlo a giudicarsi il premio ma tanti altri premi sono stati assegnati. Allora tema che vince non si cambia, il tema era quello delle fiabe, da una fiaba all'altra e da Biancaneve e Leonora è diventata la fata turchina, brava. Sì, anche quest'anno un'altra fiaba, siamo stati contentissimi di essere qua con tanti bambini e di aver vinto un'altra volta ma grazie alla collaborazione di tutti. Quindi facciamoci un applauso! Tanti bambini vanno ringraziati alle parrocchie perché fanno un lavoro straordinario durante l'anno ovviamente dal punto di vista religioso ma lo fanno anche dal punto di vista sociale e questa festa è anche il lavoro che portano avanti, è la fine di un lavoro che portano avanti durante tutto l'anno con i ragazzi e con i bambini. Siamo molto contenti, è un anno speciale, non poteva essere che un carnevale speciale da questo bellissimo palco e ritorneremo a riempire la piazza il 24 di febbraio perché inaugureremo la biosfera della vita, una sfera digitale di 5 metri d'altezza che rappresenterà il pianeta da salvare e al tempo stesso produrrà ogni giorno spettacoli audio-luce, quindi un arrivederci in piazza del popolo tra qualche giorno, tra qualche settimana, intanto godiamoci questo carnevale e complimenti ai vincitori. E vi ricordiamo che giovedì alle 21.20 in prima serata potrete vedere uno speciale approfondimento dedicato proprio al carnevale di Pesaro. Ed ora cambiamo argomento, carnevale che in questo weekend si è unito anche allo sport è il caso della pallavolo e della megabox Vallefoglia che sabato ha celebrato il Tigers Day fra volley, divertimento e musica. A carnevale si sa, ogni scherzo vale e il volley non fa difetto. Così accade che nel sabato sera del palamegabox le tigri bianco-verde tentino lo scherzetto mettendo sotto 2-7 la quotata Savino del Bene Scandici che a sua volta trova la contromossa rimontando fino alla vittoria al tie-break. Rammarico per la rimonta subita, orgoglio per un punto in classifica importante per la megabox ottenuto dopo una prestazione di qualità e carattere a mettere il fiocco al Tigers Day, ovvero il prepartita di festa carnevalesca apparecchiato dalla megabox volley assieme al carnevale di Fano. Ma il carnevale tocca un pochino tutta la società e anche le società sportive. Poi quest'anno c'è questa novità che ieri il nostro sindaco Massimo Seri ha ceduto i poteri e quindi è diventato sindaco del carnevale di Fano, Rabachè, la vostra maschera ufficiale e quindi Fano e Pesaro sono ancora più unite. Quindi ho piacere di essere qua, vi ringrazio per l'invito e il carnevale abbatte i campanilismi, abbatte i muri e quindi bene Fano e Pesaro finalmente insieme. Sicuramente anche noi facciamo parte di chi vuole abbattere i campanili perché comunque lo sport unisce e non divide, quindi noi siamo promotori di questa nostra filosofia, ci piace divulgare le attività del territorio, promuoverlo e farci conoscere per le nostre attività. Io so il Voulon, la maschera del carnevale di Fano, il più antico d'Italia e il più dolce del mondo. Ma invece so Rabachè, la maschera di Pesaro e Stan ha so anche il sindaco di Fano. Divertimento carnevalesco e musica di qualità con le note intonate da Melissa Agliottone. Il 2023 è stato il mio anno diciamo d'eccellenza perché l'ho iniziato con la vittoria di The Voice, poi ho fatto dei opening d'estate e poi ho partecipato al Junior Eurovision Song Contest che è come l'Eurovision per i grandi ma per i più piccoli e ora sto andando avanti scrivendo e facendo dei pezzi miei che usciranno a breve. A me piace tantissimo la palla a volo, ne stavo parlando proprio prima. Sono molto felice di essere qui e di cantare questo pomeriggio a questo evento. Continuiamo a parlare di sport, in questo caso dal volley passiamo al basket con la crisi senza fine della VL che ieri sera è incappata nell'ottava sconfitta consecutiva che ora la condanna al penultimo posto in classifica. Situazione sempre più cupa per la VL che avarese in cappa nell'ottava sconfitta consecutiva. Contro l'Open Job Mattis la squadra di Sacchetti è sempre costretta a rincorrere ma perlomeno da battaglia per tre quarti di gara per poi crollare nel quarto quarto complice l'espulsione di McDuffie che pure aveva fatto una buona partita. Alla sirena il punteggio dice 91-80 e VL penultima in classifica a 10 punti ora sorpassata da Treviso. Finisse oggi il campionato per Pesaro sarebbe Serie A2. Ora c'è la sosta in cui gettarsi anima e corpo nel lavoro utile a scongiurare questa infausta eventualità. Nella Serie B di basket di Tal Service Loreto perde invece lo scontro al vertice con Matelica. Al Palamegabox gli ospiti vincono 83-79 una gara in perenne equilibrio. Nel calcio la VL inaugura al meglio il suo tour de force di derby vincendo 2-0 a recchione di fermo e lucidando un Carson in formato deluxe che decide la contesa con una doppietta da bomber di razza dopo un quarto d'ora e al tramonto del primo tempo. Partita gagliarde di tutta la VL che domina la fermana rischiando poco anche nei 25 minuti giocati in 10 per l'espulsione di Iervolino. La lotta salvezza però continua senza sosta, mercoledì sera al Benelli, altro derby con l'Ancona a pari punti dei pesaresi. Nel calcio 5 invece l'Ital Service spreca troppo e viene punita 2-1 dalla fortitudo Pomezia che in terra laziale va avanti 2-0 nel primo tempo, dopodiché le velleità di rimonta peserese si arenano nell'unica rete del gol dell'ex Juan Frank. Nel rugby invece la grinta della Fiorini-Pesero non basta ad arrestare la striscia di vittoria della capolista Verona. Al Tecno Bowl Rugby Park, nonostante la bella prestazione dei Kiwi, i Veneti guadagnano la vittoria per 32-19. Eccoci arrivati alla fine di questa edizione, la prima edizione del lunedì con il nostro telegiornale. Restate con noi questa sera perché avremo subito dopo questa prima edizione, vi ricordo che la seconda edizione del telegiornale è alle 20.30, alle 20.10 andremo a scoprire quello che è stato discover Pesaro e quello che è stato detto appunto alla BIT di Milano. E come di consueto il lunedì sera alle 21.20 torna una nuova puntata di Check Up Obiettivo Salute. Questa sera parleremo di oncologia ossea e di densitometria. Che cosa sono? Ve lo spiegherà il dottore specialista in oncologia medica, Sebastiano Calpona. E poi subito dopo alle 22.00 trasmetteremo la partita Fiorini-Pesaro Rugby contro Verona Rugby. E io chiaramente vi aspetto domani alle 7.20 in diretta, vi ricordiamo insomma di stare con noi perché domani trasmetteremo in esclusiva questo sondaggio che è stato fatto tra i cittadini pesaresi proprio in vista del voto di giugno. Quindi vi aspetto in diretta sul canale 80, in diretta sul nostro sito, sulla nostra applicazione e anche sulla nostra pagina Facebook. Adesso vediamo come sarà il meteo per i prossimi giorni. Vi auguro buona serata.